E' ritornato in ospedale da consigliere regionale Ferdinando Laghi. Dopo aver presentato la proposta di riorganizzazione della sanità calabrese, l'ex primario di medicina nel suo nuovo ruolo politico di rappresentante del territorio ha scelto di incontrare il personale ospedaliero dello SPOC del Pollino, dialogando con i responsabili dei vari reparti e la dirigenza sanitaria. Sul tavolo del confronto i numeri della delibera sui fabbisogni dell'azienda sanitaria provinciale che penalizzano Castrovillari e la sua dotazione di organico. E' del tutto evidente che Castrovillari dai numeri che abbiamo anche valutato, visto, letto eccetera anche precedentemente ha un ruolo subalterno rispetto agli altri SPOC e questo non va bene. Gli SPOC hanno pari dignità e debbono avere il personale necessario anche prospetticamente. Né, tantomeno, lo SPOC di Castrovillari può svolgere un ruolo, come dire, da supermercato che vai, ti scegli quello che ti pare e te lo porti via. Scelte e diseguaglianze incomprensibili rispetto agli altri SPOC che mettono in discussione il diritto alla salute di questo territorio. Cioè nel senso che qui non si tratta di difendere solo un presidio, si tratta di difendere il diritto alla salute delle persone e noi intendiamo farlo rispettare. L'incontro con il personale sanitario è servito per fare il punto sullo stato dell'arte e capire come ribadire le necessità di questo presidio strategico per l'area del Pollino. Fra l'altro il mio progetto è proprio finalizzato a riportare gli ambiti territoriali vicino ai cittadini e ai sindaci in modo che effettivamente le componenti sociali e istituzioni possano rapidamente interagire perché nelle condizioni attuali c'è semplicemente la paralisi.